Ormai lo conoscete tutti, dopo il fantacalcio, il fantacitorio, il fantamerda, la speciale gara chi schiaccia il merdone più grosso, ricordiamo che in testa di gran lunga c'è Matteo Salvini, non c'è gara, grande Matteone, il fantamerda questa settimana lo vince un outsider, un po' a sorpresa, il merdone grosso lo ha schiacciato un ragazzino di 15 anni, è russo, fa il pilota di kart e per fisseggiare una vittoria ha fatto il saluto romano, ed è stato giustamente squalificato è stracciata la licenza, ma come si permette sto scemetto di fare un saluto che significa guerra, morte e persecuzione, si sa che lo puoi fare impunemente solo se sei un candidato alle comunali di Fratelli d'Italia, se no ti fanno un culo così, giustamente